Il grande fratello 16 sta per iniziare. Barbara Durso, insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, ha presentato il reality show in conferenza stampa. Cast molto vario, storie familiari forti alle spalle e come l'anno scorso sconosciuti e personaggi più o meno noti. Sono queste le novità principali della nuova edizione. Sicuramente a tenere banco saranno anche le schermaglie tra i due opinionisti. Cristiano e Iva sono partiti subito stuzzicandosi più volte in conferenza stampa e sicuramente ne vedremo delle belle.